Un parchetto per i bambini, un parcheggio per le auto e un'area a sgambettamento per cani. Nel centro di Montesilvano, lungo la ferrovia, l'area ex FEA si è trasformata. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale anche il recupero della stazione di smessa, che potrebbe diventare un centro di aggregazione. Nel pieno centro della città, 4.000 metri quadrati circa, che vengono recuperati, un'area che era completamente all'abbandono, preda di persone avventuriere che depredavano anche quello che era rimasto. Oggi la riconsegniamo alla città con un parco giochi di 1.500 metri, oltre 100 parcheggi e un'area riqualificata di 4.000 metri. I fondi sono circa 500.000 euro a tutti i fondi comunali. Oggi l'inaugurazione in via Boccaccio ha la presenza anche degli alunni delle primarie delle scuole Delfico e Marinelli, che hanno potuto incontrare alcuni personaggi dei fumetti. Al di là dei parcheggi che abbiamo ricavato e che saranno funzionali al centro di Montesilvano, in quest'area è stata predisposta un'area giochi che sarà destinata ai più piccoli, motivo per il quale abbiamo voluto assolutamente che ci fossero i futuri fruitori di quest'area. Oggi qui a inaugurare quest'area importante di Montesilvano, un'area peraltro strategica, perché è al ridosso dei via L'Europa, una delle vie più importanti della città, è il Corso Umberto. E non sono mancate le polemiche che hanno generato momenti di imbarazzo durante il discorso del sindaco. Due cittadine sono intervenute per contestare il taglio degli alberi. La zona infatti era uno spicchio non cementificato tra le palazzine e la ferrovia, ed ora è per due terzi un parcheggio. La perizia di un agronomo ci ha detto che le piante erano a rischio crollo, si è difeso dal pulpito il primo cittadino.